Sochi 2014 come Mosca 1980. Vladimir Putin blinda le Olimpiadi contro le proteste sulla discussa leggi anti-gay. Il presidente russo ha vietato le manifestazioni durante i giochi invernali, in programma il prossimo mese di febbraio. Il divieto in realtà sarà in vigore dal 7 gennaio al 21 marzo. Saranno effettuati severi controlli nelle strutture che ospiteranno le competizioni, nei terminal dei mezzi di trasporto e sulle strade. L'opposizione parla di misure incostituzionali perché autorizzano la polizia a disperdere qualsiasi tipo di manifestazione. Gli attivisti dei movimenti gay avevano già programmato di usare le Olimpiadi per protestare contro la legge che vieta la propaganda gay davanti ai minori. Nonostante il pugno di ferro del Cremlino, infatti, i movimenti che si oppongono alla norma non hanno mai abbandonato la piazza. La battaglia si gioca anche al Comitato Olimpico Internazionale. A Ginevra è stata presentata contro la legge una petizione sostenuta da 320.000 firme.